Una cucina tipica ha antipasto, primo, secondo, contorni, torta, frutta e caffè. Ma gli cuoci hanno 60 minuti, così gli cuoci cucinaranno solamente antipasti, antipasta, prima e torta. Prima cominciamo abbiamo un ingrediente segreto, quale gli piatti useranno. Oggi un ingrediente segreto è... Bastante! Ora sento se con un cuore aperto e un stomaco volto, lo dicho, cominciate!